Allora io ho un fratello che è malato di tanti anni e si trova in questa struttura che in questa struttura mio fratello si trova benissimo. Io vorrei che come mio fratello e tutti gli altri malati che hanno una cosa stabile da stare bene loro perché non va bene come sta andando. Siete preoccupata? Sì, moltissimo. Perché? Perché io non so dove andrà a finire mio fratello. Cosa si augura? Io mi auguro per il meglio che si sistemano le cose e che al più presto pagano questi che lavorano. Anche perché voi pagate? Sì, noi paghiamo ogni mese. Noi ogni mese paghiamo, però non vogliamo sapere dov'è che vanno a finire questi soldi che noi paghiamo perché ogni familiare paga. C'è la possibilità che se queste strutture chiudano i pazienti possono essere trasferiti anche fuori dalla vita? Sì, sì. Anche lontano, non sappiamo dove. E non è giusto, secondo me, perché queste malati si trovano bene dove sono e devono avere tutti i suoi diritti.